Buonasera a tutti. Facciamo di sentire l'affetto. Alla sentire. Allora, sei pronto? Sei pronto? Tu sei pronto? Sì, sì, piano piano. Come stai? Sempre meglio? Stiamo pensando giorno dopo giorno a tutto il lavoro da fare per farmi rientrare al meglio per aiutare la squadra. Sei pronto? Facciamo un applauso, certo. Sei pronto? Andiamo a giocare perché quello è il tuo lavoro principale. Sei pronto lunedì sera in Piazza Carrera? Abbiamo un tetto a tetto di 30-40 minuti, un po' di curiosità. Sei pronto? Ti vediamo un prattaccio. Ancora domani per... Senti, cosa dire ai tuoi tifosi? Le possiamo dire perché conosci bene, bene questa piazza. Dico di continuare a sostenere la squadra, a non dare giù trizzi troppo affrettati. Siamo partiti l'anno scorso, magari dopo una sconfitta o un pareggio, dubbio da dire ovviamente che non eravamo all'altezza e abbiamo preso secondo me il secondo posto che era non un obiettivo ma alla fine è stato importante per avere l'accesso alla Champions. abbiamo provato a lottare fino all'ultimo per qualcosa di importante perché è questo che merita la gente di lasciare lavorare tutti quanti, noi, il mister, il direttore perché saprà sicuramente darci il meglio di sé e il meglio sicuramente per la Roma che è quello che importa a tutti noi. Un messaggio forte, un messaggio importante, ti chiedo quanto ti manca per essere al top? Per essere al top? Non lo so, per entrare con la squadra spero il prima possibile, abbiamo un piano in mente e vediamo se non ci saranno in top e lo seguiremo e sarò presto in campo insomma. Intanto un bocca al luco! Grazie!